Dove è franato, e lo prenderei anche di lato qui. Il pomeriggio o notte c'è qui, dalle 8 di sede in poi c'è qui. Il pomeriggio o notte c'è qui, non c'è già niente, si può scendere qua tutta la sparmessia, non c'è qui, non c'è qui, non c'è qui, non c'è qui.